ciao a tutti ragazzi dal vostro caro amico giacomo introna oggi vi mostrerò come pulire un kiwi sempre con il cortello tradizionale ma prima di iniziare il video se vi è piaciuto vi prego di condividere e di mettere un bel like ed iscrivervi al mio canale ecco fatto iniziamo, tagliamo la parte dove sta il picciolo poi la parte di dietro e poi lo cominciamo a sbucciare questo nudo semplicissimo il cortello deve sempre prendere la parte questo mezzo millimetro perché così facendo non viene il rigo nero o non si attacca la buccia semplicissimo questo lo potete fare tutti quanti da casa naturalmente naturalmente ho scelto un kiwi maturo che anche se è più facile da sbucciare da togliere l'acqua guardate com'è bello, è bello pulito questo a fine filmato ve lo mangerò tutto ora vi faccio vedere come affettarlo in questo punto guardate che bello è proprio un'opera d'arte della natura io rimango meravigliato per tutte le combinazioni dei semi che nei frutti e nelle verdure sposto da qua piavo così si vede meglio la telecamera ecco qua non arriverò che lo mangerò questo chi si può così che un sole verde ecco fatto guardate com'è bello bellissimo bellissimo con questo ho finito terminato ecco qua così facendo ci si può mettere una fragola sopra lo si può mettere nella macedonia naturalmente farlo a pezzetti in questo modo si può fare anche così vedete o si può fare in due parti se si vuole o leggermente più doppio a tocchetti comunque ecco qua io con questo ho finito terminato spero che il video vi sia piaciuto di condividere e di mettere un bel like e di iscrivervi al mio canale vi saluto e vi auguro una buona giornata a tutti dal vostro caro amico Giacomo Introna ciao ciao ciao